Festa della moneta questa mattina all'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Sturzo allestita in auditorium. Presenti all'evento gli alunni della Scuola Media di Gela Ettore Romagnoli. Un modo festoso e distruttivo per cominciare a parlare ai più piccoli di economia e sottolineare l'importanza della moneta in una società complessa come la nostra, in cui la digitalizzazione dei sistemi ha investito il settore. Un'occasione in cui i ragazzi possono venire a conoscere la nostra scuola, ma in particolare in maniera molto semplice e gioiosa anche conoscere quelli che sono i temi fondamentali che si studiano in questa nostra scuola. E quindi il nostro augurio è che si interessino, si affascinino a quelli che sono i temi dell'economia, della banca, che oggi sono dei temi molto importanti. Oggi è possibile sottolineare che l'Istituto Luigi Sturzo è una delle scuole che ancora regge nel senso che dà una concreta opportunità di lavoro, uno sbocco professionale che è molto importante in tempi di gravissima crisi. Sì, la nostra scuola è un istituto tecnico-economico dove si studiano delle discipline fondamentali per affrontare un po' oggi qualsiasi tipo di lavoro. Tra l'altro noi ci stiamo impegnando molto sia nell'accogliere i ragazzi ma anche nell'aiutare quelli che hanno quasi completato il corso di studi nell'inserimento nel mondo del lavoro. Ci stiamo adoperando anche per fare delle convenzioni con degli istituti tecnici superiori che nel giro di pochi anni potrebbero dare delle opportunità lavorative importanti ai nostri alunni. Considerato che un po' tutti i corsi di laurea sono fortemente inflazionati bisogna comunque dare a questi ragazzi delle indicazioni sul futuro abbastanza precise per centrare l'obiettivo di inserirsi nel mondo del lavoro nel più breve tempo possibile. I progetti alternanza scuola-lavoro qui alla Luigi Sturzo sono praticamente di casa? Sì, noi abbiamo un comitato tecnico-scientifico da diversi anni siamo stati uno dei primi istituti ad istituirlo. Funziona bene perché abbiamo un buon rapporto con le aziende del territorio e la nostra speranza è sempre di più di incrementare gli stage, i tirocini formativi e quindi far sì che i nostri alunni già dal terzo anno possano magari frequentare le aziende e quindi avere già una prima esperienza lavorativa. Professoressa, avete anche lanciato un bando per i piccoli studenti? Abbiamo lanciato un bando per i ragazzi che frequentano le terze medie di tutte le scuole di Gela oggi manderemo il bando consiste, grazie all'aiuto della banca che ci sta sponsorizzando la Mediolanum stiamo invitando gli alunni a partecipare a un concorso molto carino dove loro possono mettere a frutto le loro conoscenze anche in campo informatico nella produzione di video con il tema relativamente alla banca la banca nell'era di internet quindi nuovi mezzi di pagamento le nuove metodologie di sicurezza informatica nelle transazioni bancarie quindi la banca nell'era di internet quindi la banca nell'era di internet Grazie a tutti